Amici del software libero e open source, benvenuti in questa piccola videoguida nella quale vi illustrerò come ripristinare il comportamento precedente della visualizzazione degli strumenti all'interno di GIMP. Con la versione 2.10.18 di GIMP è stata introdotta una nuova modalità predefinita per la visualizzazione degli strumenti nel pannello laterale. Come potete vedere ci sono meno icone dopo l'aggiornamento, non perché sono state rimosse delle funzioni, bensì perché sono state raggruppate in modo tale da avere gruppi logici. Vi faccio vedere un esempio molto semplice. Ad esempio andiamo sullo strumento di selezione e tenendo premuto con il tasto sinistro del mouse oppure cliccando con il tasto destro sulla relativa icona si aprirà questa nuova finestraia dove vi fa selezionare il tipo di strumento di selezione, se rettancolare o elittica. Stessa cosa ad esempio sul strumento pennello tenendo premuto abbiamo il pennello, la matita, l'erografo, lo stilo, il my paint. Quindi tutti gli strumenti sono stati raggruppati in modo tale da avere una vista compatta che ci consente di raggiungere le varie funzionalità più rapidamente a livello logico, a livello concettuale. Questo tipo di modalità di visualizzazione degli strumenti è già presente in suite per editing di immagini proprietarie. Adesso è giunto anche su questa nuova sfida di GIMP ed è il comportamento predefinito. Quindi se avete anche una precedente installazione di GIMP, aggiornando GIMP, vi ritroverete questa nuova modalità di visualizzazione. Questo però ha fatto storcere in naso agli utenti, quelli più navigati. Molti utenti mi hanno scritto, dice Marco, ma è possibile ripristinare il vecchio comportamento? Sì, è possibile ripristinare il vecchio comportamento e avere tutte quante le nostre belle iconcine in bella mossa, quindi senza dover stare a fare il tasto sinistro o destra in seconda funzione. Adesso vi illustrerò come fare. Andiamo su Modifica, Preferenze, all'interno di Preferenze abbiamo Interfaccia e troviamo la voce Pannello degli strumenti. Qui, come potete vedere, è possibile configurare gli strumenti, ma è presente questa nuova voce chiamata Usa i gruppi di strumenti. Come potete vedere, se ci passiamo da sopra, ci mostra che Usa un singolo bussante nel pannello strumenti per i gruppi di strumenti, che è questa nuova modalità. Togliendogli il segno di spunta, ecco che sono riapparsi tutti quanti gli strumenti con le singole icone, tutte in bella mostra. Io ancora non so bene quale modalità mantenere, perché essendo abituato all'amerare degli icone, diciamo così, ad avere tutte le icone in bella vista, lavorando in Kimp, utilizzo molto la memoria visiva, quindi automaticamente l'occhio va già dove, cioè meglio, subito riesco ad individuare la voce che mi serve, l'icona che mi serve, perché appunto utilizzo molto la memoria visiva quando lavoro. È questione di abitudine, io ve lo dico a mio avviso, tempo un paio d'ore di utilizzo della nuova modalità, che adesso ripristino per farvi nuovamente vedere, dove sta il pannello strumenti, ecco qua. Dicevo, tempo un paio d'ore della nuova modalità, e di sicuro riuscirete ad ambientarvi, e riuscirete ad apprezzare questa nuova modalità, che ho notato anche da un'altra parte dei miei utenti, è stata accolta come una grande cosa questa modalità. Bene, con questo concluso spero di essere stato utile a molti di voi all'ascolto. Lunga vita e prosperità, mi raccomando, leggeri i blog, ascoltate il podcast, commentate, seguitemi sui social e quant'altro. Ciao ciao!